Bene vecchi trapani, siamo tornati qui con un nuovo video del Rotto Division, anacci tua! Non me ne entra mai in mente, e lui c'ha Lewandowski! In pressito! Lewandowski poi c'ha... Non l'abbiamo visti! C'ha quelli là, c'ha... Ma perché ogni volta mi dà sto coso de merda? Perché sei il principiante novello, novizio! Proprio! Che se ti piace c'hai il vizio! Tu il signore è subito Romulo? Dici! Bado alle ciance! Dici, troppo verso! È partito di Natale, però c'era il portiere che era... E' parte The Guzman, però vabbè... Che è? Che fa? Che c'è? Che cazzo fa? Da solo... Oh, sei fatto male da solo, regà, cioè... Guarda che sto a fa... I just metto you... And this is crazy! Con karma siamo 3 contro 1, con karma, con karma si può fare tutto quello che vuoi! Tutto quello che vuoi! Fallo, però! Che cazzo fa? È fuori gioco! Sei riuscito a darla un fuori gioco! Non te la dovevo votare, è quello il problema! No, ma la dovevi da prima, perché stavo da solo, poi ti sei fatto recuperare... Mannaggia! Guarda che c'è Salaga è partito! Vai zio! Corri su sta fascia! Corri tutto quanto! Beh, fai qualcosa però! Guardami! Brella! Brella! Umbrella! No! Giustamente! Brella Corporation! Mannaggia, mannaggia! Basta! Video! Questo c'è se in cula! No! Marchetti! Marchetti è un fenomeno! Che? Che? Che cazzo? Ehi, fallo! Fallo! Guarda che sto a fa! È già un... Cioè, questo ha abbandonato la partita perché... Cioè, fammi capire, io ho messo start e lui ce ne va! Lo vede a Gervinio! Gervinio! Ha parato! Che cazzo porco! Oh! E dai! Ma che è successo? Hanno fatto la patch! Ancora! Vattene via, vattene via nel fondo! Non serviva! Eh, no! Fanculo! Basta questi passaggi così! Non vanno da nessuna parte! Perché non l'hai passata indietro? La devi passata indietro e io... Ma andatevi da così! E tirava al volo, capito? Perché mi aveva recuperato! Ma andate a driblarlo! Olè! Fallo! Fallo! E tira, porco du... E dai! Fanculo! Ma che palle con queste traverse! Non ce la faccio più! Oh, forse vai dentro l'area... Forse drible, poi tiri e poi gol! Vabbè! Piafice! Ci stacca che ogni tanto... Giusto e facile, no? E' un giusto facile, no? Oxlade Chamberlain! Oxlade Chamberlain! Oxlade Chamberlain! Oxlade Chamberlain! Oxlade Chamberlain! Oxlade Chamberlain! Cioè, uno fa paura! No che ti segna, ma che gli fai il fallo di rigore! Cioè, ma non è normale sta cosa! Leva, gli è sta palla! Io l'ho tolta! Non ce l'ho col giocatore! Toto Coutugno! Guarda, dalla dietro, dalla dietro! Toto Coutugno! Toto Coutugno! Madonna! E allora, ma... No, li... Allora, non ti spiego una cosa! Su questo FIFA, fanno cagare quei passaggi! Però era perfetta per Cervigno, l'idea, capito? Le azioni, perfette! Io veramente ve lo dalle, se tu continui a mi occupiando, ci vada quando io! Oh! Ma così! Oh! Oh! Cervigno, ci dobbia stare in piedi qua! Dimmi che questo non andava bene, strunzio! Salà, 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 salà! Salà! T'ho detto, salà, Cristo Dio! T'ho detto che segniamo comunque! Vai, vai, puro! Toto Coutugno! Toto Coutugno! 3-0, perché no? Vai, in porta, The Guzman! The Guzman! The Guzman! Eeeh, che cazzo fai? Ma che cazzo fai? Eh, stavite in mezzo, proprio! Ma dove sto muove? Dovevo dribbla pure te! Esce il portiere Marchetti, è incredibile! Oddio, vuole prendersi un rigore, qualcosa! Finisce qui! La partita prima è finita! La partita prima è finita! Questa da adesso pure, perché... Io parlo in latino, no? Tipo, cogito ergo sum, sum ergo cogito! Esatto! Quindi ragazzi, la prima è finita! Quindi ci becchiamo subito la prossima! Tagliate questo! Su, veloci veloci! Pusht, 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 pusht. Ora, ora, ora! Tutti, tutti, argento, ce laremo! Tra poco arriverà il video a cappella, dovremmo soltanto sistemarci, arriverà il video dell'applicazione a cappella. Tra l'altro, io ho fatto un mini video a cappella sul mio Instagram. Ci frega un cazzo, andatevela a vedere perché è figo. Si chiama il mio vicinato. Andatevela a vedere. Si parte! Vai! Oddio! La finca! Lo devi piazzare! Porco due! Non puoi sbagliare un tiro del genere! La devi piazzare! Non guardatevi Pjanic! Regà, scrivetelo nei commenti! Regà, la devi piazzare! Hashtag, la devi piazzare! Che ancora non l'ha capito lui, purtroppo. Dopo 30 partite giocate insieme, non l'ha capito ancora. No, no, no! No, ci sta piazza per culo! Ci sta piazza per culo! Si, che lo fai! Pjanic! E dai, hai avuto il cazzo! Cazzo! No, non è colpa mia! Dai, è Pjanic che hai sbagliato! Non importa, ce l'ho segnato! Allora, in questa partita sono tre volte che è successa la stessa cosa e ti continui a tirare così! Oh, non hai capito! Cioè, non è colpa mia! Perché a me non mi succede? Ma te è successo due secondi fa! Ma colpa lo fa, non lo ho attraversa, tu pisi solo traverse! Ma che cazzo che è colpa mia se Pjanic ti tira i pietti? Carichi troppo! Ma chi carica troppo? Ho toccato appena! Oh! Non ci posso credere! Non ci posso! L'ho appiazzata, eh! Non l'hai appiazzata! Non l'hai appiazzata! Non l'hai appiazzata! L'ho appiazzata! Sul primo palo l'ho appiazzata! Bassa, dai! Non gioco più uno! Non ne secco una oggi! Oddio! Ma stava gioca a ping pong! Cioè, ma voi pensate soltanto al palo palo e già quello è una partita sfortunata! Poi pensate a tutto il resto! Stiamo calmi, ritiamo! Ma da, brah, senti! No, no, no! E' da, porco due! Mi sono rotto il cazzo! Ogni volta una segni! Questo qua si è pure messo! Mi hai fatto pure perdere tempo! Eh, sei buono! Eh, si è messo! Grazie al cazzo! Ho dovuto tirare per forza e per forte! Al capputtana, eh! Testa di cazzo! Oh, bravo al culo, cazzo! Eh, porco due! Così dovevo segnare! Ciao, guarda! E' incredibile! Cioè, abbiamo fatto il gol più stupido della storia! No, dobbiamo rivedere, fermi! Guarda che gol stupido! Mannaggia, eh! Guarda, 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 è precisa! Ma che cazzo ha fatto? No, ha fatto una gran cosa, però, sai! Ma voglio vedere che... Detesta! Ma voglio rivedere questa! Sì! Sì, Fabio! Oddio! Easy! Easy! Oh, è passata! È passata! Guarda, no! Poi ci pensa un attimo! È passata! Era un passaggio per portare una appreta! Ragazzi, ci avviamo anche in questo episodio a vincere tutte e tue! Ma tu sei buono a parlare! Perché anche in questo episodio! Perché, ne so, concentrata! Passa la palla! Ci avviamo anche in questo episodio a vincere un episodio! È drogato! A vincere due partite in un episodio! Me frega! Oh, oh, oh! Oh, porco! Roma! Guarda che, ti giuro, se state quanto poco è uscita la palla, cioè... No, c'è stato semplicemente anche il culo! Ci ha trollato! Vabbè, raga! In questo episodio abbiamo vinte due! De Cristo, direi! Perché siamo alla bellezza di... Vediamo quanti punti... La bellezza di... 12 punti! Con tre partite rimanenti! Possiamo ancora vincere... Con due vittorie! Esatto! Con due vittorie su tre, vinciamo il titolo! Se no, ne basta una e passiamo in sesta divisione, raga! Una vittoria di due pareti! Dai, allora, c'è tutto! Se questo video vi è piaciuto, lasciamo 5.000 like! Noi ci vediamo al prossimo! E come sempre... Bella!